La mappa sismica dell'Abruzzo su internet www.regionabruzzo.it zone sismiche. L'assessorato regionale alla protezione civile ha infatti messo in rete, rendendola facilmente fruibile per tutti, la mappa con la riclassificazione sismica del territorio regionale derivante dall'applicazione dei nuovi criteri stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio. Lo stesso sito contiene anche la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica. L'ordinanza del Presidente del Consiglio ha detto i nuovi criteri adesso per la classificazione sismica del territorio, le nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Entrambe le innovazioni introdotte, ha spiegato l'assessore Giorgio De Matteis, rappresentano momenti di radicale cambiamento nei settori dell'analisi della pericolosità di base del territorio e dell'approccio progettuale conseguente. Si delinea, aggiunto De Matteis, sostanziali ricadute delle innovazioni stesse sulla realtà amministrativa dal livello nazionale a quello comunale, nonché sull'intero corpo tecnico professionale e sul mondo scientifico delle discipline ingegneristiche e delle scienze della terra. Con l'applicazione di nuovi criteri di classificazione, tutti i 305 comuni bruxesi, tra i quali sono presenti molti centri storici caratterizzati da una elevatissima vulnerabilità e ragione delle loro tipologie costruttive ed urbanistiche, saranno interessati da livelli di rischio medi ed alti. Sulle attività avviate con l'ordinanza, che fanno come fili il miglioramento della qualità dell'intero sistema costruito e quindi un aumento della sicurezza di tutti i cittadini esposti al rischio sismico, si terrà il convegno, la riclassificazione del territorio e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, leve strategiche di un programma integrato regionale per la meticazione del rischio, convegno che si tiene presso l'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria all'Aquila. Questo convegno ha avuto l'obiettivo di inquadrare gli scenari di livello regionale derivanti dall'introduzione della nuova classificazione sismica del territorio e della nuova normativa tecnica, evidenziando attraverso il concorso degli amministratori, degli ordini professionali del mondo imprenditoriale, dei tecnici della pubblica amministrazione del mondo scientifico, le problematiche emergenti per cominciare ad individuarne le soluzioni e le possibili sinergie con ulteriori innovazioni in corso nel settore dell'edilizia. Al convegno hanno partecipato oltre al Presidente della Regione Giovanni Pace, l'Essessore Giorgio De Matteis, il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Guido Bertolaso e il Direttore del Servizio Sismico Nazionale Elvezio Galante, i Rettori delle Università Bruzzesi.